come filmmaker che è uno dei miei due tre lavori sicuramente avrei avuto maggiore fortuna se fossi stato in possesso di una fibrotica che invece nella mia zona non è presente forse perché in metà della nazione si punta su zone centrali non si punta molto sulle zone periferiche fattore invece totalmente negativo del web sicuramente alcuni tipi di truffe le classiche truffe nere le truffe nigeriane quali sono sono quelle truffe dove ti dicono ciao sono l'ereditiera di un grosso politico di un grosso imprenditore rimasto morto un'eredità di 5 6 milioni di dollari cavolo dico io ho un altro qualsiasi fesso magari che sta dall'altra parte sono diventato fortunato perché questa signorina vuole dividersi con me la sua eredità e magari pure sposarmi invece in realtà tutto questo non è vero loro poi non fanno altro che immettere soldi frutto di atti hackers e di evasione fiscale di conto corrente in conto corrente sul mio come poi su altri conto correnti li fanno rimbalzare per capire se sono già tracciati se non sono tracciati chi sono io un'altra persona il primo li lasciano un 30 per cento sul nostro conto corrente il resto li tengono per loro che hanno fatto questa ecco rapina quest'atto di truffa come lo vogliamo definire dopo di che nessuna donna bella mostrata in foto si sposerà con noi dopo di che oltre a questo rischiamo un'indagine per favoreggiamento a chissà quale impreso chissà quale persona fisica criminale altra truffa la truffa del perete altro fattore negativo ciao caro sono il reverendo vivo nella repubblica del begin ho un certificato di tesoro e di eredità di una mia rifugiata profuga figlia del proprietario di una miniera di diamanti ha un'eredità di 5 milioni ne darebbe a te 120 mila se l'aiuti a lasciare l'africa dove è a rischio vita come precedentemente la sua famiglia uccisa uno con un povero sciocco si commuove in realtà ti fanno firmare un accredito di 120 euro perché la transizione di quei 120 mila euro ovviamente a tuo carico in realtà ti hanno truffato i 120 mila euro tramite un accredito che fa in contanti con western union o con fedex online e così via al nominativo di una persona di loro fiducia che volendo in tale modo potresti smascherare o che magari non puoi perché magari una persona defunta al quale è stato sottratti il documento è defunta da pochi giorni e quindi ancora non ci sono in quei luoghi tutte le dichiarazioni o ma non non tramava altro che diversi retroscena alquanto amari per il povero malcapitale